Un quadro congiuntorale deteriorato con una debole fase di crescita fino al 2011 e uno stop nei primi mesi del 2012. Va bene la moda, vanno bene i metalli preziosi grazie alla domanda estera, soprattutto verso Stati Uniti e America del Sud. Bene anche il turismo estero, il trasporto aeroportuale, mentre gli investimenti sono stagnanti, la vendita al dettaglio è in calo, così come l'edilizia, sia pubblica che privata. Dunque bene la domanda estera, meno bene la domanda interna. È questa la fotografia fra luci e ombre che emerge dalla relazione della sede della Banca d'Italia di Firenze. L'economia regionale risente come quella nazionale del periodo difficile. La chiave di lettura è semplice. Tutto ciò che è legato alla domanda interna in questo momento è debole e non ha prospettive nell'immediato di ripresa. Mi riferisco ai consumi delle famiglie, abbiamo un calo delle vendite al dettaglio. Mi riferisco agli investimenti delle imprese che sono su un livello molto basso e mi riferisco alla spesa pubblica che in questo momento non è in grado di dare un sostegno. Viceversa ciò che è legato alla domanda estera va meglio e dalle nostre indagini è abbastanza chiaro come le imprese che negli ultimi anni hanno emesso in atto strategie di internazionalizzazione, ebbene queste imprese hanno un andamento decisamente migliore. Quindi nel breve termine le prospettive di miglioramento del quadro sono legate alla capacità di intercettare la domanda estera. Sul mercato del lavoro quello che vediamo nel 2011 non è successo molto, gli occupati sono sostanzialmente invariati. Infatti il possesso di una laurea aiuta, ma spesso rileva Banca Italia, i giovani sono impiegati in un settore diverso dalla specializzazione acquisita o in una posizione dequalificante. Quello che è accaduto durante la crisi è un peggioramento delle prospettive delle classi più giovani. Quindi nel nostro documento, trovate analisi su questo argomento, c'è una riduzione quantitativa dell'occupazione per i giovani e a questa si aggiunge anche un problema di tipo qualitativo. I nostri laureati che lavorano molto spesso svolgono attività o che non riflettono l'ambito di specializzazione oppure che richiedono qualifiche più basse rispetto della laurea. Quindi un problema di qualità e di quantità per il lavoro giovanile. Per quanto riguarda il credito, quello che abbiamo visto in Toscana durante lo scorso anno è stato un rallentamento progressivo. Sul finire dell'anno più o meno i preassi dell'economia erano fermi. Nei primi mesi del 2012 hanno cominciato un pochino a calare, specialmente per le imprese. Cosa è successo? Due cose sono successe. Da un lato una domanda, una domanda molto debole, le imprese non chiedono credito per investimento, dall'altro una restrizione dell'offerta che ha interessato un po' tutte le banche e misura un pochino maggiore le banche più grandi. La cosa che vediamo abbastanza chiaramente è che il comportamento delle banche è molto selettivo. Quindi le difficoltà del credito riguardano in misura maggiore quelle imprese che hanno un equilibrio finanziario un pochino più precario. Le imprese migliori dal punto di vista dell'euro struttura continuano a ricevere credito, quindi comportamento molto selettivo. Il dato preoccupante sul mercato del credito è il peggioramento della qualità. Abbiamo un tasso di nuove sofferenze molto alto in Toscana, relativo specialmente all'edilizia e questo ovviamente si riflette in un atteggiamento di maggiore prudenza da parte delle banche. Quanto ha influito la crisi internazionale nel credito alle imprese e alle famiglie per le banche? Abbiamo influito moltissimo perché la tendenza che abbiamo visto in Toscana è del tutto analoga alla tendenza che abbiamo visto nel complesso del paese, per cui le difficoltà dal lato della raccolta, della raccolta all'ingrosso, della raccolta internazionale, la necessità di una maggiore patrimonializzazione si sono riflesse in Toscana come nel complesso dell'Italia su un atteggiamento più restrittivo nelle derogazioni del credito. Grazie.